Ragazzi, bentornati! Oggi leggeremo insieme, commenteremo, un'altra poesia di Pascoli, questa volta tratta dai canti di Castelvecchio, in particolare La mia sera, quindi un tema già incontrato nella poesia italiana. L'abbiamo incontrato, ad esempio, con Foscolo, no? Quel Foscolo che vedeva nella sera, al momento in cui riposava il suo animo guerriero, perché la sera lo faceva calmare, gli ricordava la morte tanto desiderata. Anche Pascoli affronta il tema della sera, e anche per Pascoli la sera ha un ruolo importante, no? È il momento in cui lui riflette, in un'altra poesia, il Crepuscolo ci ha detto che era il momento in cui pensava ai suoi cari. La sera è il momento del riposo, dopo una giornata di attività, ed è un momento di riflessione. Per Pascoli, però, è anche un momento estremamente simbolico. Vedremo che lui simboleggia la sera come l'età adulta, e il giorno come invece l'infanzia, l'infanzia drammatica che lui ha vissuto. Ma andiamo a leggerla insieme. Allora, attiviamo la penna. Il giorno fu pieno di lampi, ma ora verranno le stelle, le tacite stelle. Nei campi c'è un breve gre-grey di ranelle. Le tremule foglie dei pioppi, trascorre una gioia leggera. Nel giorno che lampi, che scoppi, che pace la sera. Allora, questa prima strofa ci pone già di fronte al doppio binario, no? Giorno-sera. Giorno-giovinezza, sera-età adulta. Il giorno fu pieno di lampi, ma ora verranno le stelle, le tacite stelle, le stelle silenziose. È una sinestesia anche questa. Le stelle solitamente non vengono, come dire, accostate ad un aggettivo che affronta un tema uditivo, ma piuttosto visivo. Quindi, le tacite stelle è anche una sorta di personificazione delle stelle, tipica di Pasquale, tipica della poesia simbolista. Le stelle accompagnano il poeta. Quindi, il giorno è stato pieno di lampi, ora vengono le stelle, le silenziose stelle. Quindi abbiamo già messo lì, di fronte, nelle prime due strofe, nei primi due versi e mezzo, il tema della poesia. Il giorno è stata una tempesta piena di lampi, la sera finalmente la pace. E poi c'è la solita descrizione di questo ambiente naturale, della campagna che circonda la casa di Pascoli. Nei campi c'è un breve gre gre di ranelle, no? Anche qui, il solito verso pascoliano, con l'onomatopea, con un'allitterazione, no? Breve gre gre di ranelle, la ritterazione della R. Le tremule foglie dei pioppi trascorre una gioia leggera. Allora, qui c'è un gioco strano, no? Di Pascoli, per il quale una gioia leggera trascorre le tremule foglie dei pioppi. Questo trascorre è un verbo che solitamente non è un verbo transitivo, quindi non può avere un complemento oggetto. Una gioia leggera trascorre le tremule foglie dei pioppi. Pascoli prende questo verbo e lo trasforma, anche dal punto di vista linguistico, come un qualcosa che corre attraverso, no? Trascorre, transcorre, le foglie dei pioppi. Quindi corre attraverso le foglie dei pioppi, le tremule foglie dei pioppi. Quindi c'è una sorta di metafora, no? Una gioia leggera, una metafora del momento in cui, dopo una tempesta quotidiana, mattutina, la natura si riposa in pace. Quindi c'è una sorta di gioia che trascorre tra le foglie, dei pioppi. Nel giorno che lampi, che scoppi, che pace la sera. Quindi come aveva iniziato con il parallelismo, così chiude con il parallelismo. Nel giorno i lampi, la sera che pace. Tra l'altro costruendo con un chiasmo. Nel giorno che lampi, che pace la sera. Quindi un contributo temporale, che lampi, con un'esclamazione, che pace, invece, alla sera. Andiamo a vedere la seconda strofa. Si devono aprire le stelle, nel cielo si tenero e vivo. L'appresso le allegre ranelle si inghiozza monotono un rivo, da riprendere le ranelle di sopra. Di tutto quel tupo cumulto, di tutta quell'aspra bufera, non resta che un dolce singulto nell'umida sera. Quindi le stelle si devono aprire, in questo cielo che è tenero e vivo. E' come, anche qui è un'analogia, no? E' come quando dopo una pioggia esce il sole e i fiori si aprono, no? Di fronte al cielo tenero e vivo. Così, lui dice, le stelle. Le stelle si devono aprire, devono spuntare, devono uscire. Vicino a questo rivo che si inghiozza, perché è piovuto, quindi questi canali che sono pieni d'acqua, si inghiozza monotono un rivo, dove c'erano le ranelle raccontate prima. Quindi, vedete, è solito Pascoli, che ci descrive un ambiente naturale di campagna, la campagna che circonda la casa di Pascoli, il suo mondo. Di tutto quel tupo cumulto, di tutta quell'aspra bufera, quindi inizia questi due versi con un'anafora che ci ricorda che la mattina c'è stato un cupo tumulto, un'aspra bufera, di cui è rimasto solo un dolce si ingulto, nell'umida sera. Ancora qui, il giorno, la giovinezza è stata tumultuosa, è stata una bufera, la sera è la maturità in cui, oramai, di tutto quel dolore è rimasto un dolce si ingulto. Ancora il singhiozzare che si ha, quando oramai un dolore è passato. «È quella infinita tempesta finita in un grivo canoro, dei fulmini fragili restano, cirri di porpora ed oro. O stanco dolore riposa, la nube nel giorno più nera fu quella che vedo più rosa nell'ultima sera». Ritorna ancora, sull'infinita tempesta, sembrava una tempesta destinata a non finire mai, e invece è finita, vedete l'alternanza, la contrapposizione fra infinita e finita. La tempesta era infinita, invece è finita in un rivo canoro, cioè in un rivo che si inghiozza, quello che ci diceva prima. Un rivo che canta, che fa una sorta di musica. Tutta quella tempesta è finita nel canale, ed è un canale che quasi quasi è piacevole, sembra quasi che canti. Dei fulmini fragili, quei fulmini che in un secondo passano, sono rimasti solamente cirri di porpora ed oro. Quelle nuvolette un po'... quelle nuvole sottili e sparse per il cielo, che si colorano di rosso quando c'è il tramonto, no? Di tutta quella tempesta lì sono rimasti, di tutti quei fulmini, sono rimasti solamente dei cirri di porpora ed oro. Quindi Pascoli ci sta raccontando che finalmente è in pace con se stesso. Dopo la sua tempesta giovanile, la vita che l'ha costretto a vivere esperienze che nessuno dovrebbe vivere in quell'età, adesso invece ha fatto pace con questa storia. Infatti dice, stanco dolore riposa la nube nel giorno, che era nera, adesso la vedo rosa nell'ultima sera, cioè di giorno vedevo il mio futuro malissimo, adesso che ci sono nel futuro, lo vedo invece serenamente. Sto vivendo serenamente. Dopodiché c'è una storia nella quale invece comincia, come dire, a incriccarsi un po' questa idea che Pascoli ci vuol dare di essere tranquillo, finalmente, nella sua bella campagna, sereno, la maturità gli ha donato serenità, salute, ragionevolezza. Vedremo che Pascoli, come al solito, un po' mente. Tutta questa tranquillità sotto sotto nasconde, invece, ancora un dolore molto forte e un'ansia molto forte. Che voli di rondini intorno? Vedete che uso, anche del solito uso della punteggiatura. Abbiamo ben quattro punti esclamativi, come a voler sottolineare con forza di essere finalmente uscito da quest'ansia della giovinezza, da questo terrore, da queste paure che ha vissuto. Che voli di rondini intorno? Che gridi nell'aria serena? La fame del povero giorno prolunga la garula cena. La pace, la parte si piccola, i nidi. Nel giorno non l'ebbero intera, né io. E che voli, che gridi, mia limpida sera? gli metto subito questi puntini di sospensione, nel momento in cui lui tira fuori qualcosa di se stesso. Dice, né io, però non prosegue. Che cosa ci racconta prima? Dice che, come al solito, l'esempio del nido degli uccelli tipico di Pascoli, no? Che voli di rondini, la fame del povero giorno ha prolungato la garula cena. Cioè, durante la giornata i rondinotti non hanno potuto nutrirsi, perché le rondine non potevano uscire a cacciare, a procurare il cibo, perché c'era il temporale. E anche qui dovete stare molto attenti a leggere il povero giorno con la giovinezza di Pascoli, no? La parte si piccola, i nidi, nel giorno non l'ebbero intera. La parte di cibo di cui avevano bisogno durante la giornata non l'hanno avuta, i nidi, che è una sineddoche, no? Nido per colui che è dentro nel nido. Quindi, scusate, non è una sineddoche, è una mettonimia. La parte, quello che è contenuto nel nido, cioè i passerotti nel giorno, non hanno avuto una cena, un pranzo, degno di quella cosa lì. E Pascoli cosa ci vuole dire? Ci sta raccontando il classico esempio naturale, il nido affamato, per dire che lui, in giovinezza, non ha avuto tutto l'affetto necessario a diventare un adulto. Tutto l'affetto, la sicurezza, la forza che deriva dall'avere una famiglia intorno, lui non l'ha avuta. Infatti dice, né io, nemmeno io ce l'ho avuta. E lui non ce l'ha avuta mai, nidi. Cioè, il problema per cui mette questi puntini in sospensione è che si rende conto che lui manca di quell'aspetto, vive ancora la fame del povero giorno, non ha avuto quell'affetto. Però non vuole pensarci. Puntini in sospensione è che voli, che gridi, mi alimpi da sera. Però qualcosa ha incriccato, ha messo un… come dire, ha inciampato Pascoli, tutto quello che ci voleva fare credere della serenità, della gioia dopo la tempesta, no? Tema che ci ricorda anche il buon Leopardi, quindi un bel collegamento da fare sarebbe. Crolla tutta questa quinta, dopo la tempesta, crolla alla fine, perché emerge il Pascoli più simbolico, il Pascoli nel quale il senso della morte, il desiderio di morire, quasi il senso di colpa di essere sopravvissuto ai suoi fratelli, ai suoi genitori. L'ultima stoffa, infatti, ci dice «Don, don, e mi dicono dormi, mi cantano dormi, sussurrano dormi, mi sbigliano dormi, la voci di tenebra azzurra. Mi sembrano canti di culla, che fanno che io torni com'era. Sentivo mia madre, poi nulla, sul far della sera». Allora, a parte che è un, come dire, è una summa di tutte le caratteristiche poetiche di Pascoli. Però, don, don, subito, parte con un bel verso nomatopeico. Sente delle campane. In questa, sono le campane del vespro, probabilmente, delle preghiere della sera. E cosa gli dicono queste campane? Dormi! Mi cantano dormi, sussurrano dormi, mi sbigliano dormi, la voci di tenebra azzurra. Richiami che arrivano dalla notte che sta arrivando, no? Quindi, il giorno è finito, sta arrivando la notte, e le campane lo richiamano a dormire. Gli cantano di dormire, gli sbigliano di dormire, gli ricordano, e qui arriva la seconda parte, gli ricordano i canti che sentiva nella culla, quando sua mamma cercava di farlo dormire. Che fanno, che io torni, com'era. Lo fanno tornare indietro, ancora, quasi come se volesse tornare nell'utero della madre. Sentivo mia madre, poi nulla, sul far della sera. Psicologi che hanno studiato la letteratura, affermano che è un normalissimo desiderio, dovuto a delle patologie, di una crescita non uniforme, con dei problemi di affetto che sono presenti in Pascoli. E quindi, qui c'è dietro tutto un simbolismo del suo desiderio di ritornare nella madre, cioè di morire, sostanzialmente. Di ritornare a pre-vita, a prima di venire al mondo, perché è stato un momento in cui è stato tutt'uno con sua madre, tutt'uno con la sua famiglia. Ok? Quindi vedete come tutta la serenità che Pascoli cerca di farci, cerca di illuderci di avere oramai fatto sua, finisce invece nell'ennesima riproposizione di questo Pascoli, che simbolicamente ci dice che qualcosa gli è mancato e lui vorrebbe tornare indietro. Va bene, vi lascio, beh, vi faccio notare l'ultima strofa è ricchissima di puntini di sospensione, e i puntini di sospensione abbiamo sempre detto che vanno interpretati, vanno interpretati come un non detto, e questo non detto è evidentemente la contraddizione di tutto quello che lui ha detto prima. Ok, vi lascio alla vostro studio, buona giornata a tutti, ci vediamo alla prossima lezione.